Perché sarà una grande stagione teatrale? Innanzitutto è una stagione teatrale che si articola su più appuntamenti. Abbiamo addirittura sei spettacoli su nove appuntamenti. E quindi è per noi una questione di vanto il riuscire ad offrire alla città una stagione teatrale variegata che vede grandissimi artisti e stelle del settore da Vittorio Sgarbi che l'anno scorso veramente ha incontrato un grandissimo successo sia di pubblico che di clienti all'interno della casa da gioco per passare poi a Ambra Giolini, a Ugo Pagliai. Quindi veramente andiamo a toccare tutti i palati che vogliono essere essi di intrattenimento teatrale o di cultura teatrale. Un occhio di riguardo anche per i giovani. Assolutamente sono state previste degli sconti proprio per gli studenti. Addirittura ha 10 euro l'ingresso proprio perché vogliamo avvicinare gli studenti alla cultura ed è giusto che avvenga anche all'interno della casa da gioco che come giustamente ricordava l'assessore Nocita in conferenza stampa è diventato negli ultimi 10 anni, negli ultimi 20 anni il teatro della città di Sanremo. Quindi noi di questo ne sentiamo anche la responsabilità e lo facciamo molto volentieri.